Benvenuto! Benvenuto caro amico, cara amica, nel terzo episodio del podcast del marketing olistico nel sito LorenzoLibieri.it. Oggi sono con un nuovo amico, un grande formatore, un grande capitano di azienda e amministratore, sei amministratore di Appason Booking, azienda che si occupa di formazione e di organizzazione eventi in Italia. E lo fa con grande professionalità. Vi presento caro amico, Alvise Federico. Ciao Alvise! Buongiorno! Buongiorno! Voglio lasciare un attimo a te anche la presentazione. Mi piace quando c'è un nuovo ospite in questo nuovo sito chiedere, fare una domanda un po' ancestrale. Chi sei? Chi è Alvise Federico? E cosa ama fare nella vita, tutti i giorni? Io faccio tante cose, tutti i giorni. Ok. Quello che più che altro chi sono io è una persona che è mandata qui, più che altro per portare dei messaggi. Mi sento un po' un messaggero. Ecco, questo è forse quello che mi sento io nella mia struttura. E questo messaggio che porto, lo porto per cercare di dare il mio contributo a tutto quello che vedo. Ed è un contributo dove ci sono alcuni ingredienti fondamentali, come per esempio la gratitudine, come per esempio il fatto di dare il meglio di se stessi, il fatto di essere il più possibile in un flusso di cose che permettiamo che accadano a noi e anche alle persone che ci stanno intorno. Quindi è una domanda, è vero, che è un po' ancestrale. È una domanda dove chi sono, dove vado, da dove vengo. Sì, il caravaggio, il mio scopo. Queste sono domande importanti e la risposta ce l'hai un po' giorno per giorno forse, no? Ogni giorno scopri qualcosa di nuovo di te, scopri una nuova parte di te che magari non conoscevi, vai in profondità su un'altra. Quindi sono una persona in divenire, una persona in divenire che in ogni momento cerca di essere presente, all'attimo presente e di dare il meglio di quello che può, di quello che ha. Grazie a voi per la risposta. Voglio continuare. Noi abbiamo collaborato insieme per vari eventi, ti ho aiutato nel lavoro e c'è stata sempre una bella energia, un bel flusso, come hai detto tu prima. E in questi ultimi anni, anche in questo blog, si occupa di come promuovere il proprio lavoro. Ci sono stati vari cambiamenti nel lavoro e quindi molti ancora stanno facendo un lavoro che non amano e molti hanno scelto un'altra via, una via di una realizzazione dell'attività lavorativa. Secondo te la parola lavoro, cosa sta a significare nella tua vita personale e nella tua esperienza? Lavoro. Per me lavoro è qualcosa che fai con passione e con amore, è qualcosa dove ti puoi esprimere, è qualcosa dove puoi ottenere delle realizzazioni tue personali e dove devi dare il meglio di te nel fare un qualche cosa che sia anche produttivo, quindi qualcosa che ti aiuti anche poi a fare altre cose che fai fuori dal lavoro, quindi è un momento che tu dedichi a te stesso e agli altri per essere produttivo. E una cosa che per me è molto importante è che mentre lavori devi fare qualcosa che ti piace, qualcosa in cui ti diverti, qualcosa che fai con passione. In questo modo utilizzi bene questo periodo così importante della tua vita proprio per, impiegandolo nel onorare anche te stesso quello che fai, chi sei, quella che è la tua forma di condivisione con gli altri, quindi è qualcosa di estremamente nobile, importante, qualunque cosa tu faccia non è importante che cosa fai secondo me, ma è importante con che spirito lo fai, come lo fai, se ti diverti mentre lo fai, se senti che ti stai realizzando come persona e che stai crescendo come persona mentre stai lavorando. E dal mio punto di vista anche è fondamentale che mentre lavori ti poni degli obiettivi ecologici, quindi degli obiettivi che una volta raggiunti ti fanno stare bene, ti fanno sentire una persona migliore, fanno stare bene anche le persone che stanno intorno a te e danno anche un contributo proprio al tutto, a quello che ci sta intorno. Questo è il modo con cui lo affronto un po' tutti i giorni. È una scoperta che ho fatto proprio di recente e che in realtà non è una scoperta, è qualcosa che ho rivisto nella mia vita passata, ho visto che i miei più grandi successi li ho sempre raggiunti nel momento in cui mi stavo divertendo veramente mentre facevo qualche cosa. Lì succedeva una cosa meravigliosa, quando entri in connessione, si incastra tutto, comincia ad essere, l'universo comincia a sorriderti, comincia a dirti vai che stai andando sulla strada giusta, è un bel percorso quello che stai facendo e ti aiuto anch'io, ti aiuto anch'io. Quindi niente, io quello che mi auguro è che le persone riescano a trovare nel proprio lavoro proprio questo tipo di divertimento, dove una persona fa le cose perché si diverte e accetta di sbagliare, accetta di commettere un sacco di errori, solo che tutte le volte che le fa si diverde talmente tanto che si rialza subito per continuare a giocare. E quindi è anche un po' lo spirito con cui sto costruendo adesso il mio percorso, il fatto che non è tanto un problema quante volte sbagli, ma più che altro quante volte ti rialzi e come ti rialzi anche. Infatti voglio allacciarmi con questo spirito, no? Spirito di rialzarsi al volo che avevamo quando eravamo bambini. Cioè da bambini noi capitava che incontrovamo un ostacolo nella vita e via si si rialzava subito. E in quel periodo guardavamo, ti ricordi, guardavamo cartoni, quasi guardavano, no? C'erano quei supereroi, c'erano Superman, c'erano quei cartoni che ci esaltavano. Quindi ci immedesimavamo in questi cartoni. Secondo te quando eravamo bambini, in quel periodo lì, chi erano secondo te i supereroi? Quando eravamo bambini? Cioè nel momento in quel momento noi eravamo bambini, sette, otto, ma anche di meno, sei, sette anni, guardavamo questi cartoni animati e chi erano per noi quei cartoni animati, quei supereroi che guardavamo? Secondo me erano quello che noi saremmo voluti essere. Ed erano delle persone che avevano dei superpoteri, quindi erano fuori dall'ordinario e con quei superpoteri riuscivano a compiere delle missioni importanti che erano di aiuto alla collettività. Quindi eravamo delle persone che si mettevano al servizio degli altri e nel momento in cui però avevano dei superpoteri che potevano essere utilizzati per aiutare gli altri. Quindi fondamentalmente questa è la visione che noi abbiamo del supereroe. Il supereroe, tra le altre cose, se ci pensi, quando va ad aiutare le altre persone è sempre con un costumo o con una maschera. Si maschera. E per me si maschera, ma cos'è che maschera? Non se stesso, maschera il proprio ego. Perché nel momento in cui ti metti al servizio degli altri e lo fai con uno spirito di vera condivisione, di vero servizio, allora lì non hai bisogno di mostrare te stesso perché aiutare gli altri per mettersi in mostra secondo me non è lo spirito del supereroe. È proprio una cosa che fai con uno spirito puro. E questo spirito puro ce l'hai quando sei riuscito a creare dentro di te una bella centratura e una bella implementazione del tuo essere uomo. Quindi un uomo, un vero uomo, una persona che è riuscita a fare un percorso per riuscire ad esprimersi al meglio è quello che può anche aiutare gli altri. Quindi una persona che ha già fatto un percorso interiore, molto spesso anche i supereroi hanno vissuto un inferno prima di diventare dei supereroi. Quindi sono entrati proprio in contatto col dolore che hanno dentro e con determinati mostri che hanno un dolore interno, hanno delle prove importanti e queste prove importanti le superano perché sanno che quella è l'unica cosa che possono fare. Non possono non superare queste prove. E tant'è che sono anche prove che come ti ricordi se non le superano c'è la fine dell'umanità, ci sono cose veramente drastiche, c'è una roba e quindi sono l'unico baluardo per riuscire a raggiungere la salvezza appunto dell'umanità o cose così importanti e quindi non possono permettersi di non farlo. Quindi nel momento in cui cadono è talmente importante quello che stanno facendo che si rialziano immediatamente perché sono mosse da un desiderio bruciante che hanno dentro di raggiungere quel risultato che per loro è fondamentale ed è importantissimo. Ottimo. E quando, andando a collegarmi a quello che hai detto tu, così eravamo noi da bambini precisamente come adesso hai detto tu. Crescendo, passando l'adolescenza, è come se questo bambino interiore diciamo si adatta al mondo e quindi iniziano a prendere bastonate dalla scuola, si iniziano a prendere bastonate dalle prime ragazze, dai genitori, dalla vita e diciamo questo sogno, questa voglia di essere supereroe diciamo scema, no? Si abbassa un po'. Cioè secondo te perché la maggior parte delle persone dopo l'adolescenza tende un po' ad abbassare questo sogno e a non viverlo più nella propria vita. Ci sono vari motivi. Un motivo è perché ogni bastonata non interpretata nel modo corretto è un colpo anche alla tua autostima e quindi quando cominci ad avere un'autostima che si abbassa a quel punto le prove che ti vengono affrontate vengono affrontate in un modo più debole. Non si attinge più al proprio potenziale al 100% come si fa da bambini. Ok. E quindi attingendo poco al tuo potenziale metti in campo delle azioni che sono delle azioni che sono un po' deboli e le azioni deboli danno risultati deboli che a loro volta vanno a crearti questo condizionamento che non ce la fai, che non ce la puoi fare. Quindi un pochettino è anche un loop che viene innescato. Poi ci sono anche le persone che ci stanno intorno che sono abituate a, ma per una questione culturale. Magari persone che ci vogliono molto bene, però hanno una visione del mondo magari che non è proprio una visione molto positiva e quindi tendono anche a darci dei colpi dicendo guarda che la vita è così, la vita è dura, devi soffrire, la vita è sofferenza, la vita è tragica, c'è la crisi fuori. E questa cosa qui piano piano ci crea delle convinzioni nella nostra mente che ci fa vedere un mondo che è un mondo triste, un mondo dove non puoi fare delle cose importanti, un mondo dove tante cose diventano impossibili. E una cosa che mi ha aiutato molto è stato proprio quello di riuscire a fare, grazie anche al percorso che ho fatto, molte cose che ritenevo essere impossibili. E quando ne fai anche una soltanto ti rendi conto che l'impossibile ce l'hai soltanto nella testa e quindi cominci ad avere un'interpretazione nei confronti della vita dove, a parte che l'impossibile non c'è più, l'impossibile è soltanto qualcosa che ancora non ti sei organizzato bene, tutto è difficile prima di diventare facile. Ma se tu attingi veramente al tuo potenziale, allora a quel punto ti dai la possibilità di fare dei veri e propri miracoli, di superare delle sfide che potevano sembrarti impossibili. E tutto quanto nasce dall'atteggiamento che noi abbiamo dentro nell'affrontare queste sfide e andare a prendere tutto quello che possiamo dal potenziale che noi abbiamo per fare qualunque cosa ci venga in mente di fare, sempre che sia un obiettivo ecologico, quindi qualcosa che è qualcosa degno di essere raggiunto, qualcosa che ci sfida, qualcosa di grande. E avere pensieri grandi, se ci pensi più passa il tempo più anche i sogni si abbassano. Perché? Perché dici sono a contatto con la dura realtà che mi ha fatto capire che questo non lo posso fare, quest'altro neanche, quest'altro neanche. E purtroppo è un loop questo che non ci aiuta a continuare a pensare in grande, ad avere sogni grandi, a sentirci noi per primi delle persone grandi, delle persone che possono fare cose meravigliose, delle persone che se veramente attingessimo tutto il nostro potenziale come potremmo, prova a pensare come sarebbe questo mondo, prova a pensare come sarebbe tutto quello che ci circonda, se ci fosse un esercito di persone che attingono il loro potenziale al massimo e danno il meglio che possono in ogni momento. Se questa fosse l'attitudine delle persone, che cosa succederebbe da fuori? Come sarebbero le nostre relazioni? Mi hai letto nel pensiero perché infatti volevo chiederti come mettere in pratica questa nuova visione, no? Una persona riesce ad avere, anche dopo l'adolescenza, riesce a ritrovare questo sogno, però è come se la vita subito sembra che non mi presenta l'aiuto pratico per rimetterla in pratica, per realizzarla, questa attività, quindi questo sogno. So che tu sei molto bravo ad aiutare le persone a riuscire a portare il loro sogno nella pratica e so che ultimamente stai sviluppando un percorso che infatti abbiamo appena introdotto, che si chiama a scuola? A scuola di supereroi. A scuola di supereroi. Raccontaci un attimo di questo percorso e come è nato, perché mi piace comunque capire quando un progetto nasce, cioè quando un progetto nasce da un'intuizione a quando si mette in pratica, perché è un periodo in cui, beh, ci sono molte idee, no? Capita che quando sei in connessione con vari collaboratori, colleghi, ti arrivano idee. E secondo te come si può discernere tra quell'idea che, ascolti che dici, ok, questa la posso mettere in pratica, e invece altra idea che solo ti rendi conto che non si può mettere in pratica. Cioè tu quando hai avuto questa idea della scuola di supereroi, qual è stato lo switch che ti ha detto, ok, vado? Guarda, io ho passato gli ultimi sei anni a fare un lavoro che non avrei mai pensato di fare prima e ci sono stato proprio portato, quasi a calci nel sedere. Ho iniziato a fare questo percorso e mentre lo facevo non mi era molto chiaro neanche perché lo stavo facendo. E cosa è successo? Che negli ultimi sei anni ho frequentato, credo, più di 200 corsi di formazione, perché era il mio lavoro. Ed è una cosa rara perché le persone annualmente o non hanno soldi o non hanno tempo di fare un percorso così veramente impegnativo, così profondo. E a un certo punto lo facevo invitando grandi relatori internazionali in Italia, facendo eventi con anche più di mille persone e lì vedevo proprio tutta questa energia che si muoveva e ho conosciuto molti formatori anche italiani con cui, con alcuni di loro sono anche in un ottimo rapporto di amicizia perché poi è bello anche costruire delle relazioni con le persone. E in tutto questo percorso quello che ho fatto è stato sempre mettermi al servizio di altre persone, agevolando per l'appunto il loro lavoro, partecipando con delle parti prestabilite, ma nel frattempo mi sono fatto una formazione incredibile. E ultimamente mi sono reso conto di una cosa, che tutto questo potenziale che ho creato negli ultimi sei anni è un potenziale importante. Ed è un potenziale che mi sento di mettere al servizio delle persone in questo momento. E allora come farlo? A un certo punto ho preso la decisione di farlo, è venuta così, è stato un intuito di un momento. E lì mi sono chiesto, ma quindi cos'è che posso fare? E ho cominciato ad avere dei nomi di un percorso che potevo fare, nomi un po' altisonanti. E lì sembrava tutto complicato e difficile. È stata una cosa proprio dove sembrava che tutto quanto mi si rivoltasse un pochettino contro. E ho avuto dei momenti in cui ho detto, ma sono proprio sicuro di fare sta roba. Poi a un certo punto mi è venuta questa intuizione, che tra le altre era una cosa che avevo già scritto nella mia fanpage di Facebook a scuola di supereroi. E non so come sia venuta quella, è venuta semplicemente. E c'è stato un momento in cui ho avuto l'intuizione che era quella la risposta, che avevo proprio sotto il naso da mesi ed era la risposta a quello che io mi stavo chiedendo. Perché tante volte tu sei il nostro amico Igor, ci dice fatti le domande e non le risposte. E a quel punto ti fai la domanda e a un certo punto la risposta ti arriva. E quando arriva la risposta giusta, te ne rendi conto sai perché? Perché vedi che tutto quanto ti si rivolta a favore. Si allinea. Cominciano a succedere delle cose, entri in un flusso dove le cose cominciano a succedere, ad accadere e vedi che tutto diventa più facile. Perché? Perché ti sei allineato con un'idea che è la tua idea, ma che soprattutto rispetta quello che tu sei. Quindi entra in contatto con te ed è un'espressione di quello che tu sei nella tua intimità. E lì cominciano ad accadere delle cose. Vuol dire che sei nel flusso giusto. L'idea della scuola di supereroi, tra le altre, io mi sono chiesto ma perché ho fatto dieci stagioni di animatore turistico? Le facevo durante il mio periodo in cui mi stavo laureando in giurisprudenza. E i miei genitori mi dicevano ma cosa vai a perdere tempo nei villaggi turistici? Vai a studiare che poi andrai a fare l'avvocato? E io però non riuscivo a non farlo. Dovevo andarci. Mi serviva questo spirito di libertà. Andando nei villaggi cominciavo ad entrare in contatto con le persone. C'era un'energia pazzesca. Ci si divertiva come dei matti. E adesso me ne rendo conto. Nella scuola dei supereroi, in realtà, che cos'è che faccio io? Metto insieme due cose. La mia esperienza nell'animazione turistica e la mia esperienza nel mondo della formazione. Questa cosa qui le metto insieme di modo tale di fare un percorso dove le persone anche si divertono, stanno bene, ridono. Fanno proprio un percorso dove si comportano anche da bambini. Tirano fuori il loro bambino interiore e lo implementano. E tu prova a pensare cosa succederebbe se ci fossero tanti bambini con l'esperienza di un adulto intorno a noi. Tanti bambini che riescono a implementare dei loro superpoteri e a diventare di conseguenza anche dei supereroi. E in questo modo, con lo spirito del bambino che si rialza e casca in continuazione, casca, si rialza, casca, si rialza, tutte le volte si diverte a fare quello che fa. E lo fa dando il massimo di quello che può. E piange, ride nell'arco di cinque minuti, quindi sa anche liberare le sue emozioni. Prova a pensare che cosa vuol dire fare un percorso di questo tipo. A quella consapevolezza dell'adulto, chiaramente. Bambino, a quella consapevolezza di saper gestire questa energia. Esatto, saperla incanalare, saperla direzionare. E sempre però lasciandosi andare, sempre riuscendo a dare quel tocco di fanciullismo che per me è fondamentale in una persona. Cioè il fatto che tu riesca ad avere questo spirito leggero, leggero, dove fai le cose e le fai continuando a sognare, continuando a pensare in grande, continuando a dare il massimo di quello che puoi col gusto di farlo proprio. E ti chiedo una cosa anche, tu prova a pensare, secondo me quasi tutte le persone, se non tutte, hanno avuto almeno un momento nella loro vita in cui erano in questo stato, in cui volevano una cosa talmente tanto che a quel punto il desiderio di quella cosa era talmente forte che tutte le difficoltà che hanno incontrato per la strada, nell'imperincontratto appunto per, si sono giocciato appunto, le superavano velocemente perché erano molto concentrate in quello che volevano. E lo erano con tutte le loro cellule che erano protese verso questo obiettivo che per loro era un obiettivo fantastico, che volevano a tutti i costi. Il bambino ce l'ha molto di più questa cosa, ma anche l'adulto ogni tanto, ogni tanto riesce a ripescarla. E di conseguenza quando la ripesca fa cadere i miracoli, fa cadere le cose straordinarie. E secondo me c'è la possibilità di vivere così, di vivere in questo modo e non farlo capitare ogni tanto, ma lo puoi provocare, puoi provocare tu questo tipo di atteggiamento. E allora cominci a implementare tutti i tuoi superpoteri. E allora chiediti, il tuo supereroe di rifiuto, perché siamo tutti diversi, non è che c'è un supereroe. Ognuno poi ha il suo supereroe che andrà a raggiungere attraverso un percorso dove va a implementare i suoi vari superpoteri. E con una cosa anche molto importante. Non è solo importante il superpotere che vai a perfezionare, ma sono importanti anche le missioni che andrai a compiere, che andranno a mettere alla prova quel superpotere. Perché se c'è una cosa che è importante, Lorenzo, per me, è mettere in pratica quello quello che tu impari. Ok. E metterlo in pratica con una strategia. Con una strategia che ti porta a portare avanti delle missioni, perché un supereroe come fa a non avere delle missioni? E lo fai come? Creando un gruppo di supereroi che a un certo punto porterà avanti delle missioni insieme. Un famoso gruppo di pari, un gruppo di pari, un mastermind, questa cosa qui, messa però in un gruppo di persone che con l'atteggiamento del supereroe porta davanti delle missioni. Fantastico. Pensa che sogno. È quello che infatti va fatto quando iniziamo a sviluppare i nostri superpoteri. E devo dire che mi hai letto nel pensiero perché volevo farti l'altra domanda in cui volevo chiedere, volevo dare dei strumenti pratici a chi ci ascolta per far sì, per mettere in pratica questa energia che avevamo da bambini. E come andava, una volta riscoperta, come metterla in pratica. Tu mi hai letto nel pensiero e l'hai detto, l'hai detto in maniera del flusso. Un'altra cosa, qual è un assaggio? Un piccolo assaggio, secondo te, di questo percorso che hai iniziato. Un piccolo assaggio di quello che si andrà a fare, dei strumenti pratici che possono già utilizzare chi ci sta ascoltando nel proprio lavoro. Cioè nel promuovere il proprio lavoro, ma in questo episodio stiamo più parlando del nostro atteggiamento verso il nostro lavoro più che nel promuovere. E che è importante, che è importantissimo perché atteggiamento crea tutta la parte intorno. Quindi qual è lo strumento pratico che secondo te? Chi ci ascolta, proprio da adesso, dopo il video, può subito iniziare a fare. Nel lavoro, adesso, chi ci sta ascoltando, dopo il video, inizia subito a fare questa azione in maniera diversa e avere risultati diversi. C'è una cosa che ti posso dire. Tu puoi lavorare, l'unica cosa su cui tu hai un controllo che hai completo è sul tuo atteggiamento, giusto? Tutto il resto ha vari influssi che magari non dipendono direttamente da te. Una volta che hai capito questo, entra in contatto con te stesso, vedilo il tuo atteggiamento e comincia ad agire giorno per giorno ricercando il divertimento e l'entusiasmo in quello che fai. E lo fai momento per momento. Lo fai cominciando a sorridere, cominciando a esprimere gratitudine a tutto quello che ti sta intorno. Io ogni giorno pratico l'esercizio della gratitudine, grazie. Quindi un atteggiamento proprio dove sorridiamo nei confronti di qualunque cosa ci capita. Sorridiamo. Ti capita qualche cosa, nel bene e nel male, sorridi. Quindi non serve né che ti esalti né che ti deprimi. Sorridi. Perché quante volte magari qualcosa che ci può sembrare negativo sul momento, poi si rivela essere qualcosa invece che ci ha cambiato la vita in meglio in un modo incredibile. Molte volte è capitato. Quindi tanto vale sorridere. Sorridere e andare avanti sorridendo. Avere grandi sogni, iniziare in piccolo, con piccoli passi e agire subito. Agire da adesso. Quindi abbi un sogno grande. Inizia in piccolo, agisci subito, con questo atteggiamento. La vita è bella. Grazie. Quello che mi capita mi sta aiutando per crescere. Ogni esperienza mi forma per essere una persona migliore. Ottimo. E ti diverti. E comunichi il divertimento. Quando ti diverti, vero o no che sei magnetico? Che le persone vogliono divertirsi con te, che vogliono venire con te? E fatti una domanda. Tu vorresti essere un supereroe? Facciamola a tutti. Vorresti essere un supereroe? E quante persone conosci che vorrebbero essere dei supereroi? E come sarebbe il mondo se fosse pieno di supereroi? Come cambierebbero le cose se fossimo costellati da supereroi? Sarebbe un altro mondo. Cioè diventerebbe Marte. No. Secondo me la Terra può diventare questo. Può diventare. E secondo me siamo anche in un momento in cui possono accadere delle cose molto importanti se ciascuno dà il proprio contributo. Ok. Quindi la mia idea è questa. Io mi sono chiesto cosa posso fare per dare un buon contributo a quello che mi sta intorno. Per me questa dei supereroi è una grande scuola che può portare le persone veramente ad entrare in connessione con se stesse e a esprimersi veramente al meglio, continuando a sognare come facevano da bambini. E lo fanno coinvolgendo nel loro piccolo ciascuno qualcuno e questa cosa qui ha poi piano piano comincia a diffondersi, diffondersi, diffondersi. Io ho già un sogno che vedete già scuole di supereroi in tutto il mondo. Gli ho chiamate le officine di supereroi dove vengono proprio formati questi supereroi, ciascuno rispettando la propria individualità, la propria sensibilità, dandogli una strada, dandogli un percorso senza dover lavorare troppo sul mentale che devi fare questo e quello con l'obiettivo e quest'altro, ma le cose le fai perché te le senti dentro e quindi riesci a fare cose straordinarie. Questo per me è il supereroe. Una persona che ovunque tu la metti nel mondo, qualunque cosa succeda, se la sa cavare, sa ricreare abbondanza, sa ricreare relazioni e quindi non ha più paura di cadere perché sa subito come rialzarsi, immediatamente. E tante volte noi abbiamo paura di cadere perché non sappiamo come rialzarci. Perdiamo una donna, stiamo malissimo, perché? Perché? Perché non sappiamo se ne troveremo mai un altro uguale o con lo stesso valore. Forse ce n'è una meglio che si sta aspettando. Magari si chiude una porta e si apre la stessa cosa per il lavoro, la stessa cosa per qualunque cosa. La paura l'abbiamo perché? Perché non sappiamo se accade quell'evento, se poi sapremo ricreare quello che avevamo prima. E quindi abbiamo paura di perdere la ricchezza, paura di perdere l'amore, la paura della sofferenza. Sono tante paure che sono delle zavorre che noi abbiamo, ma nel momento in cui siamo bambini, che paure abbiamo? Abbiamo due paure fondamentalmente, la paura di cadere e la paura dei suoni forti. Tutte le altre paure ce le inventiamo durante, le impariamo, impariamo ad avere paura. Perché il bambino non le ha queste paure. E allora un adulto che si toglie queste zavorre, che entra in connessione con se stesso, riesce a fare cose straordinarie. Fantastico. Quindi iniziamo a dare grazie, grazie, grazie. Grazie, grazie, grazie. Ricapitolando. Alta visione, grande visione. Iniziare con obiettivi piccoli, ma andare avanti verso questa grande visione e si va lontano con un gruppo. Si va lontano con un gruppo di pari, con un gruppo in cui si ha questa attitudine, ricapitolando. Cosa posso dare io invece di dire cosa posso ricevere dal gruppo? E questo mi sembra aver capito. L'ottica di lavoro può essere questa. Cosa posso dare io al mondo? Cosa posso dare io al gruppo, in questo caso il gruppo di supereroi? Cosa è che posso dare io? Invece di chiedere cosa posso ricevere? E questo è lo switch che può essere fatto. Una cosa importante è anche che tu puoi dare quando hai. Certo. E quindi anche un supereroe, prima di diventare un supereroe che si mette al servizio degli altri, deve fare un forte lavoro individuale su di sé. Perché se tu sei incasinato, quando aiuti qualcuno lo fai trasmettendo la tua confusione. Se invece tu sei centrato, allora puoi dare un aiuto vero, un aiuto efficace e un aiuto effettivo. Chi hai intorno? Quindi ci sono dei momenti nella vita delle persone in cui c'è bisogno di fermarsi un attimo e riprendere il contatto con sé. Certo. Perché anche se hanno delle situazioni in cui si sentono che devono aiutare gli altri, non sono affilati, non sono efficaci nel farlo. Non è un aiuto che aiuta veramente. Per questo è importante cominciare a lavorare su di sé, a rimettersi in centratura e poi l'aiuto che fai sarà un aiuto straordinario. Le persone le potrai aiutare incredibilmente meglio. Ma prima devi pensare a te stesso. Certo. Devi pensare a riequilibrarti. Devi rispettare te stesso. Quando si dice ama il tuo prossimo come te stesso, non significa solo che devi amare il tuo prossimo, ma anche che devi amare te stesso per poter amare il tuo prossimo. E quindi lavora su di te, lavora sull'amore che hai per te stesso e poi potrai amare veramente gli altri. Alvise, grazie. Grazie di cuore di questa tua condivisione. Voglio invitarti qua sotto, caro amico, che troverai varie informazioni sulla scuola di supereroi. Questo video rimarrà online, Alvise. Quindi non so se ci saranno persone che lo vedono in questo mese. Infatti inizierai con la scuola di supereroi nel mese di febbraio, ma rimarrà online fino al 2016, non lo so. E quindi ti ringrazio anche da parte di chi ci ha ascoltato per il valore che hai dato, per l'atteggiamento mentale che hai dato. Prima abbiamo parlato, è un blog che parla di marketing olistico, ma io nel marketing olistico abbiamo messo il lavoro su di sé. E prima di iniziare un progetto, come hai detto tu, hai conformato questa teoria che è importante lavorare su di sé prima di iniziare, perché se no non è che si va tanto lontano. Caro ascoltatore, io ti invito a partire questa scuola, a iniziare questa scuola di supereroi nella vita, in qualunque modo tu preferisci. Ti ringrazio di nuovo di aver ascoltato, ti ringrazio di nuovo di aver ascoltato fino alla fine questo terzo episodio del podcast. Come vedi sono interviste speciali, non sono interviste normali, quelle che stiamo facendo in questo sito. Sono interviste che c'è bisogno in questo periodo, c'è bisogno e io lo vedo come uno spammare gioia. Mi piace spammare gioia. Spammare gioia e spammare anche strumenti per far sì che questa gioia dilaghi. Lo spam in internet, noi odiamo lo spam perché chiaramente... ma lo spam di gioia utilizzando gli strumenti giusti cambia il mondo, come tu albese. Sei pronto? Prontissimo! E tu sei pronto? Bene. Grazie a tutti ragazzi e ci rivediamo la prossima volta in questo nuovo episodio del podcast su lorenzoliveri.it e alla prossima e grazie per aver sorriso insieme a noi. Vedremo quanti supereroi ci saranno alla prossima edizione. Vedremo quanti ce ne sono. Mi raccomando, commenta qui sotto al sito, facci sapere la tua esperienza, la tua domanda. Se hai domande da fare ad Alvise e Alvise risponderà a tutti i commenti che vedrai qui sotto. Anch'io risponderò a tutti i commenti. Leggeremo personalmente qualsiasi commento risponderemo personalmente. Quindi scrivi ciò che vuoi, quello che ti passa per la testa, a noi ci fa piacere leggere e ascoltare le idee degli altri e questo blog vive di te. Questo blog è per te e anche per il tuo commento. Quindi è importante che commenti e condividi con chi pensi che possa ricevere valore da queste interviste. Grazie di nuovo, è veramente la fine. Ci vediamo alla prossima, alla fine di questo episodio. Ci vediamo alla prossima e ciao e grazie di nuovo. Ciao. Ciao.